Ciao signor Constante, tutto bene? Come è andato questo ritiro fino ad adesso? È stata una settimana dura, abbiamo iniziato con il ritiro per una settimana, abbiamo lavorato fisicamente, poi il pomeriggio tocciamo la palla, quindi va bene, per l'inizio di stagione è sempre bene ricominciare così. Sono contento, io ho visto te veramente in forma, così siamo tutti a posta a Milano, perché abbiamo un nuovo Serginio qua, solo manca un po' di assist per Prince Wotten, grazie, buona giornata. No, quest'anno farò più assist sicuro, a tutti.